Perché un progetto strategico sulla responsabilità sociale d'impresa? Diciamo che è un tema di grandissima attualità perché lo è sempre stato, oggi a maggior ragione con i cambiamenti della nostra società, con tutto quello che sta succedendo molto velocemente, è importante affrontare anche questo tema su vari aspetti anche perché le risposte che dovremmo dare saranno tra l'altro anche nuove, non possiamo trovarle nei libri di passato, quindi ci serviranno nuove idee e nuove proposte per affrontare tutto questo. Simone Campinoti, condelega al progetto speciale responsabilità sociale d'impresa.